E' un'altra notizia, ma adesso non ci sono gli allucani militanti. A Nella Catanzaro, venerdì 26 marzo, alle ore 18, a Catanzaro, presso l'auditorio di Casa di Nuovo, si terrà il comizio di chiusura della campagna lintonale di Ippocalico e delle liste che lo sostengono. Inoltre, dalle 22 a mezzanotte, Marco Pannella sarà per figlia la trasmissione, di Antonella Grippo su Telespacio TV, visibile anche da internet sul sito www.telespaciotv.com. All'appuntamento è con Marco Pannella a Catanzaro il 26 marzo.